Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove in direzione Firenze per un incidente al chilometro 31 e 200 è stato riaperto il tratto tra San Mignato ed Empoli Ovest. Permangono tre chilometri di coda tra Santa Croce sull'Arno e San Mignato, sempre verso Firenze. Possibili disagi per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. A Firenze per l'emergenza Covid è stata sospesa la ZTL estiva notturna che sarebbe dovuta scattare dal 1 aprile. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!